Gentili telespettatori buona giornata parliamo di Archerol Mittal o di ILVA non è passato non è dimenticato nulla ancora non c'è una soluzione è l'ultimo video di cui abbiamo parlato di questo Conte era contento soddisfatto perché dice c'è un'apertura dell'azienda ci ritroviamo tra due settimane e c'è un'apertura appunto da parte loro per trovare un accordo abbiamo chiesto al tribunale di posticipare l'udienza in modo che se si fa prima l'accordo potrebbe poi chiudersi tutte le indagini se invece non si fa l'accordo procede quindi un misto tra contentezza e anche una minaccia ad Archerol Mittal o troviamo l'accordo o si prosegue in tribunale però Archerol Mittal proprio la notizia proprio di pochi minuti fa scopre le sue carte la condizione per restare all'ILVA di Taranto e sono 4700 tagli esuberi 4700 persone da licenziare e quelli sono evidenziati dal nuovo piano industriale 2020 2024 presentato al MIS dall'amministratore delegato Italia Lucia Morselli al ministro Stefano Patuanelli e sindacati attenzione gli esuberi sono reali economicamente l'azienda non regge a perdite per 1,9 milioni di euro al giorno una perdita di circa 700 milioni all'anno le vendite dall'acciaio non vanno come previsto si pensava di vendere 6 6,5 milioni di tonnellate di acciaio la produzione è scesa a 4 4,5 quindi con una riduzione di oltre il 30 per cento si dice che per ogni mille tonnellate per ogni milione di tonnellate di acciaio servono 1300 dipendenti attualmente ci sono 2600 dipendenti per ogni milione di tonnellate quindi sono mille dipendenti in più per ogni milione di tonnellate prodotte quindi fate il conto e vedete che più o meno si arriva alla cifra di 4.700 5.000 esuberi quindi la condizione per rimanere è una condizione economica non è che è un'azienda di cattivi o è un'azienda di persone maligne come in Alitalia in in Alitalia ci sono 5.000 esuberi come nell'Ilva ci sono 5.000 esuberi sono persone che attualmente per la condizione economica in cui lavora l'azienda in questo momento sia l'Italia che Mittal non servono non servono cioè le si sta pagando per nulla il 4.700 stipendi è uno stipendio medio di 45.000 euro è una cifra enorme 45.000 euro comprende sia le tasse che sono in busta paga del lavoratore sia le tasse che l'azienda paga allo stato quello che costa un lavoratore nel suo complesso sono 45.000 euro di media quindi la condizione per rimanere sono 4.700 licenziamenti se no non se ne fa nulla la stessa cosa dicono in Alitalia la cordata delta klm e tutto il resto hanno detto no attenzione noi ci defiliamo perché ci sono 5.000 esuberi 5.000 persone in più attenzione quando compagnie straniere comprano l'Alitalia utilizzano molti servizi in comune non vanno a duplicare non so l'ufficio x c'è l'ufficio x in Alitalia l'ufficio x negli stati uniti molti uffici vengono fusi questa è la logica delle fusioni degli accorpamenti molte posizioni diventano doppie molte figure lavorative che ci sono in Alitalia ci sono già anche nella compagnia aerea che compra quindi si vanno a eliminare molte figure e questo comporta un risparmio per la zia per la nuova azienda la new company che è molto più grossa un risparmio e un reddito più alto un margine operativo più alto e porterebbe fuori l'alitalia dalle perdite però ci sono 5.000 esuberi come ce ne sono 5.000 a taranto nessuna impresa compra un'altra in una logica che non è economica perché se lo stato dice no questi erano dipendenti statali e tu privato che la compri li devi tenere anzi Conte aveva messo in conto in un nuovo contratto di scrivere che per ogni licenziamento fatto da Mittal sui dipendenti che ci sono adesso avrebbe dovuto pagare come 300.000 euro di multa quindi la cifra di 4.700 non è molto distante dai 5.000 esuberi che si era parlato all'inizio del braccio di ferro che era cominciato il 4 novembre esattamente 30 giorni fa infatti il ministro non nasconde il suo disappunto sono molto deluso l'azienda non ha fatto i passi avanti attesi ma caro ministro se ci sono 5.000 persone che non servono quali passi avanti se non servono non servono non c'è non è un'opinione non è che sono cattivi è che non servono e non non servendo bisogna licenziarli i carrozzoni statali non servono più certo che uno dice però caspita 5.000 licenziamenti a taranto dove la disoccupazione già al 16,7 per cento queste persone vanno a ingrossare la disoccupazione famiglie sul lastrico sì però questa è una logica commerciale se le persone non servono non servono diciamo ma prima tu avevi firmato un contratto la colpa è del governo italiano perché c'era un contratto prima con Arcelor Mittal Arcelor Mittal è uscita per legittima causa per giusta causa è uscita dal contratto dichiarandolo nullo perché voi avete tolto l'immunità penale ai dipendenti di Arcelor Mittal che era alla base del contratto quindi è venuta meno alla condizione principe del contratto quindi voi avete fatto in modo che l'azienda uscisse a gambe elevate correndo adesso la state rincorrendo no torna 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 dimmi dimmi quello che vuoi che vuoi ti faccio metà dell'affito i dipendenti che gli esuberi li metto io in cassa integrazione ma stanno cercando di rattoppare ma il problema il problema l'ha creato il governo attuale il conte 2 ha fatto un disastro con l'iva un disastro hanno votato per togliere l'immunità penale che era stabilita dal governo precedente con Arcelor Mittal quindi vanno via per giusta causa adesso se voi volete farli tornare indietro perché sono gli unici visto che sono i leader mondiali nella produzione d'acciaio sono gli unici che potrebbero essere interessati a continuare dicono va bene le nuove il nuovo contesto internazionale fa sì che ci sono 5.000 esuperi anzi guarda facciamo 4.700 300 300 li abboniamo vediamo che fare fare a quelle 300 persone comunque sono 300 300 quindi caro patto anelli deluso rattristato sei tu e il governo che avete creato questo non c'è da essere delusi non c'è da essere delusi quella è un'azienda dove l'unico fine non è la beneficenza o il mantenere persone il fine economico c'è il massimo guadagno per i soci e proprietari quindi la delusione lasciala da un'altra parte i sindacati hanno subito respinto la proposta il governo invece dovrebbe presentare la posizione ufficiale lunedì prossimo in un documento anche se patto anelli si è già lasciato sfuggire parlando al tavolo che la strada è stretta in salita e con quel numero di esuberi non potrebbe essere altrimenti sebbene il governo voglia comunque giocarsi tutte le carte a disposizione in una fase di trattativa ci sta un momento di particolare criticità spero che oggi rappresenti il momento di maggior criticità e si voglia risolvere definitivamente il problema dello stabilimento noi faremo le nostre proposte nelle prossime ore siamo molto cocciuti cerchiamo di stare al tavolo ed arrivare all'obiettivo finale quello di garantire una produzione siderurgica all'avanguardia con nuove tecnologie sviluppando interventi sul territorio tu puoi essere cocciuto quanto vuoi l'unica speranza è che loro stiano sparando alto per poi accettare 2500 esuberi forse però lascia perdere la delusione lascia perdere che siete cocciuti devi essere realista e pensare che siete stati sprovveduti superficiali dilettantistici pressapochisti incompetenti tutto quello che ci volete mettere perché anche mio zio avrebbe capito che stavate aprendo la porta per fuggire ad ArcelorMittal intanto quello che ha pensato ArcelorMittal sarebbe di spegnere l'altoforno 2 e fare entrare in funzione un forno elettrico che assorbirebbe meno manodopera ovviamente più la tecnologia è all'avanguardia meno persone servono questo è così non siamo nel caso dell'industria 4.0 siamo non c'entra niente però nell'industria 4.0 dove una mente un cervello elettronico comanda tutte le macchine con delle applicazioni l'essere umano è ridotto al minimo al minimo qui non siamo nel caso dell'industria 4 qui siamo ancora nell'industria tradizionalissima però se metti tecnologia forni elettrici più tecnologia c'è meno personale serve questa è la realtà assoluta ed è il problema che hanno molti riguardo la globalizzazione e la tecnologia che sostituisce l'uomo intanto i sindacati respingono la proposta dei 4.700 esuberi e Anna Maria Furlandi Cisle dice sono irricevibili gli esuberi stimati da ArcelorMittal nel nuovo piano industriale tra esuberi mancati rientri al lavoro e lavoratori in amministrazione straordinaria la quota infatti arriverebbe a 6.400 esuberi e così i sindacati hanno deciso di proclamare uno sciopero per il 10 dicembre una delegazione sarà presente alla manifestazione già indetta da CGL Cisle Will a Roma come ha riferito il leader della Will Carmelo Barbagallo cari leader delle tutte le più importanti associazioni sindacali non vi ho sentito dire una parola sul governo che ha creato questo capisco che siete dalla stessa parte politica sinistra sono i sindacati sinistra è il governo però bisognerebbe essere anche corretti e dire governo hai creato tu questo e adesso me lo risolvi senza nessun esubero non parlare di proposta inaccettabile di ArcelorMittal e superficialità inaccettabile del governo che voi sostenete però bisognerebbe essere corretti e dire bene noi siamo di sinistra però questo governo non funziona ha commesso una sciocchezza sull'ilva che è imperdonabile e chi la pagherà la società italiana grazie per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita ma con l'iscrizione potete partecipare a tanti sondaggi che sono presenti nella community e commentarli siamo anche su facebook se vi risulta più semplice tele italia notizie dove potete trovare tutti gli stessi video che sono su youtube condividerli con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet grazie per avermi ascoltato e buona giornata arrivederci